La CGL Filt Trasporti di Agrigento tramite il dirigente provinciale Giuseppe Donisi si è rivolta al prefetto e al sindaco di Agrigento a seguito della perdurante chiusura dello spazio interno dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Ai mezzi pubblici Donisi afferma, nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, a tutt'oggi nessun passo avanti si è fatto. I mezzi pubblici urbani non possono entrare nell'area interna dell'ospedale e vorremmo capire il perché. Si chiede soltanto di voler risolvere una vergognosa vicenda che si prolunga da diversi anni e che costringe gli utenti dell'ospedale, spesso anziani, donne in gravidanza e disabili, percorrere tanta strada a piedi dalla fermata esterna dell'autobus fino all'ingresso. Il videomaker e regista agrigentino Marco Gallo ha pubblicato un video sulla pagina Facebook di City of the Temples. Si tratta di un collage di immagini che rendono oltremodo bene il valore paesaggistico, naturalistico e artistico di Agrigento. Si tratta di un ottimo lavoro anche sotto il profilo prettamente promozionale e turistico. 2 minuti e 30 secondi intitolati Destinazione Agrigento. 3 minuti e 30 secondi intitolati 3 minuti e componente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.